benvenuti alle lezioni di djembe con alexambu alexambu sono io è il mio nome d'arte sono alessandro querzoli in arte alexambu e siamo qua per imparare insieme come si può suonare il djembe quale possibilità offre e che tipo di ritmi che si utilizzano la prima lezione riguarda gli strumenti quindi innanzitutto vediamo che tipo di strumenti esistono nella musica tribale nella musica tribale africana ma non solo abbiamo i tamburi di accompagnamento che sono gli stessi djembe abbiamo i tamburi bassi che hanno nomi diversi qua abbiamo un sambang e un kenkeni il loro nome deriva dal suono che fanno ci può essere anche un tamburo più grande che compone una triade di strumenti che si chiama dun dun in genere comunque questi tamburi bassi appunto si chiamano nel loro insieme nella loro gruppalità si chiamano nella loro totalità dun dun stessi poi si dividono in dun dun il più grande sambang e kenkeni qua abbiamo un altro tipo di dun dun abbiamo naturalmente il djembe che è sia il tamburo di accompagnamento che il tamburo di solo sul gembe si possono possono essere messe questa lette che si chiamano kiss kiss che servono quando si dà il colpo a fare sì che ci sia una vibrazione aggiuntiva che arricchisce il suono come si possono eventualmente legare dei suonagli alle braccia allora abbiamo per iniziare una visione sul tamburo di accompagnamento il gembe può essere fatto sia di pelle di capra che di pelle di mucca la che la pelle di capra ha sicuramente un suono più è squillante più esplosivo come tamburo di accompagnamento è preferibile avere una sonorità anche possiamo dire più ricca di armonici più ricca di vibrazioni una sonorità quindi dove la pelle non è estremamente tirata è importante all'interno di un discorso polifonico far sì che ci siano varie gradazioni varie altezze di suono con pelli più o meno tirate e quindi con differenti armonici per ciascun tamburo un tamburo di accompagnamento può ad esempio avere questa sonorità un altro tamburo di accompagnamento può ad esempio avere questo tipo di sonorità un altro tamburo di accompagnamento può ad esempio per quanto riguarda i tamu di assolo abbiamo ad esempio questo tipo di tamburo che è sostanzialmente tirato in maniera molto forte e produce questo tipo di sonorità abbiamo se no un tamburo come questo fatto con pelle di mucca la pelle di mucca ha un suono meno esplosivo ma molto molto più pulito è un suono che si abbina anche molto bene a differenti tipi di strumenti quando uno vuole suonare con una chitarra, con un pianoforte, con un contrabbasso assolutamente il tamburo di mucca offre una pulizia sonora che si abbina molto bene con ogni tipo di strumento differente appartenente anche a differente culture e anche a differente culture abbiamo poi naturalmente anche i tamburi bassi, che sono quelli che costruiscono la base ritmica della canzone più potente, più importante, che naturalmente crea un corpo sonoro ancora più ricco, ancora vivo, ancora più pesante e servono sostanzialmente anche per bilanciare i passi di danza dei ballerini all'interno della loro ritmica. Abbiamo detto che questo più piccolino, per quanto riguarda i tamburi bassi o dundum, si chiama ken ken ni, il medio si chiama sambang, eventualmente uno più grande si chiamerebbe dundum. Si possono suonare in questo modo, cioè posti verticalmente. oppure abbiamo anche... Questo tipo di dundum è un dundum unico in cui sono montate anche le campane. In questo caso si abbina il suono del dundum al suono delle campane in questo modo. in questo modo. in questo modo. In questo modo. tutto questo punto è così. No